Abbiamo avuto per anni una politica che era Squid Game, l'eliminazione, un due tre stelle a chi non si fermava veniva eliminato e questa legislatura ha votato una riduzione, un taglio netto del numero dei parlamentari in un momento in cui la pandemia ci teneva tutti chiusi in casa, quindi avrebbe consigliato più democrazia, più luoghi di politica, più luoghi di discussione che potranno essere poi digitali, come credo dovrebbe essere organizzata oggi la politica, ma anche assemblee rappresentative. Il nostro Parlamento ha votato prima una riforma costituzionale che è stata anche votata dai cittadini, quindi è passata in vigore, è entrata in vigore legittima, ma credo che sarà una di quelle scelte di cui poi inevitabilmente finiremo per pentirci o soprattutto per considerarla per quella che è una riforma del tutto inutile per affrontare il nodo, il nodo è il rapporto tra i cittadini e la politica, tra gli elettori e gli eletti, se il voto degli elettori conta qualcosa, vale qualcosa per scegliere un deputato, un senatore e come diceva Veltroni una maggioranza di governo. Dato che in questo Parlamento abbiamo visto che tutti si alleavano con tutti e tutti sono entrati in contraddizione con quello che avevano detto nella campagna elettorale del 2018, è del tutto evidente che alla fine è stato chiamato un signore che non c'entrava niente con questo quadro per rimettere a posto le cose, che si chiama Mario Draghi, che forse diventerà Presidente della Repubblica, una cosa che vorrei chiedere a Veltroni, oggi Giorgetti ha detto se Draghi diventa Presidente della Repubblica comanda lui, guida lui il convoglio, ecco se questa è una cosa che lo preoccupa o una cosa auspicabile, ma tutto il resto non hanno lavorato, non hanno fatto nulla per uscire di lì, quindi la questione non è solo Renzi, Renzi ha interpretato insieme ai 5 Stelle quella fase. Insieme a Salvini, in qualche misura adesso la sta interpretando da Meloni.